Manca fieno, frutta, verdura, mangime, pane secco e carne, gli animali hanno bisogno di aiuto. Era questo l'appello lanciato dai responsabili del circo, Rolando e Lara Orfei. Il circo era arrivato infatti in città lo scorso 27 febbraio, pochi spettacoli e poi lo stop per l'emergenza coronavirus, ma non solo. I circensi avrebbero infatti dovuto lasciare a Rezzo lo scorso marzo, ma il decreto ministeriale di fatto li ha bloccati in città, dove resteranno sino al prossimo 3 aprile. Noi è una cosa che volevamo che il Sussidio sia anche per noi, ci mancherebbe. Abbiamo tante famiglie qua, i bambini, insomma siamo tutti una comunità ferma, diciamo. Lo so che ci sono problemi anche più grossi, però ci siamo anche noi. Senza spettacoli dunque nessun incasso e con le scorte di cibo per gli animali sempre più ridotte. E abbiamo le tigri, gli elefanti, i cavalli, i cammelli, abbiamo più di 50 animali a seguito. Mangiano molto, poi hai potuto vedere che abbiamo 6 tigri che mangiano da 8 kg di carne a testa, ti puoi immaginare. Poi abbiamo l'elefante che mangia metà ballone di foraggio al giorno e poi abbiamo i cammelli, i dromedari, lama, tutto. 20 cavalli abbiamo. La risposta della città non si è fatta attendere ed è andata oltre ogni aspettativa. Sono infatti arrivate rotoballe di fieno, scarti di frutta, ortaggi, pane e carne. La prima a scendere in campo è stata Coldiretti, seguita poi anche da tante aziende agricole del territorio, ma anche i cittadini hanno voluto dare il loro contributo, mettendo a disposizione piccole ma quanto mai necessarie quantità di cibo che andranno a sfamare gli animali. Ci sta portando di tutto, dal pane, dalla frutta, il fieno, la paglia. Anzi, devo fare un appello e dire grazie a tutta Arezzo e agli aretini che veramente ci stanno ospitando e ci stanno meravigliando col suo buon cuore. Parecchia gente è arrivata chiedendoci cosa avete bisogno. Noi abbiamo chiesto mangiare per gli animali, perché stando fermi qua purtroppo è quello che poi si andrà a scarseggiare. Soldi non ne abbiamo chiesti e non ne vogliamo. La gente non ci deve portare soldi perché noi per fortuna riusciamo ad andare ancora al supermercato. E basta, tutto quello che serve per gli animali che ci hanno portato come ha visto, pane, salate, frutta, genere alimentari, cibo e vegetali per gli animali. Grazie. 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 Grazie.